Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cama accesi. Allora, se io dovessi rinascere, cosa che non spero assolutamente sia ben chiaro, una vita basta e avanza, e ho già dato. Senza se e senza ma. Però se purtroppo dovesse esserci questa cosa che noi non possiamo fare niente, almeno spero di poter decidere la mia prossima vita. In questo caso sceglierei sicuramente l'opzione persona di merda. E anche sta cosa senza se e senza ma. E sicuramente c'è questa opzione, ok? Persona di merda, esperienza completa, full optional. Ripeto, sicuramente c'è perché dato che il mondo è pieno di persone cattive, persone appunto di merda. Perché farai questa scelta, vorrei fare questa scelta? Perché mi sono reso conto che comunque in ogni caso, al di là di tutte le frasi, tutti i discorsi che uno si fa, eccetera, eccetera. Anche la morale cristiana, del porgi l'altra guancia, di tutte queste cose. Certe persone cattive vivono decisamente meglio, perché non si fanno problemi, ok? Se ne fregano, semplicemente. Guardano il suo e basta. E purtroppo, a pagare le conseguenze di queste persone, sono le persone buone. Io non dico di essere, ok, un santo, non lo sono, c'è poco da dire. Però, sono uno che non dà troppa fiducia. Sono uno che tendrei a crederci, ok? Tendrei a voler credere alle persone. A voler dar fiducia alle persone. A voler aspettare le persone. A voler pensare che comunque non ti vogliono fregare. A voler chiedere ai contrattempi. A voler credere a certi discorsi. A voler chiedere a tante cose. Però, alla fine, quelli come me, se la prendono in culo. Questa è la verità. In tanti ambiti. Quindi, sinceramente, vorrei anche io l'esperienza di una persona che se ne frega. Dopo, personalmente, uno non può scegliere una via di mezzo. Perché adesso voi mi direte, eh, ma c'è anche una via di mezzo, cose del genere. Le vie di mezzo non esistono. Mettetevelo bene in testa. Non esistono. Siamo in un mondo dove ormai si passa dal freddo al caldo. Ti amo, ti odio. Hai un lavoro, non hai un lavoro. Amicizie di lunga durata. Un secondo, basta, finite. Quindi, devi scegliere da che parte stare. E sinceramente, vorrei provare un'esperienza da persona che appunto se ne frega. Che non sta lì a guardare c'è l'interesse degli altri. Ma guarda al suo. Sapendo bene che dopo ci sono persone che credono alle scuse che credono a dire non è colpa mia e cose del genere. Quindi, decisamente vorrei e ripeto se proprio dovesse essere vorrei fare un'esperienza di una persona cattiva, sì. Perché alla fine al di là di quello che potrete scrivermi o cose del genere è molto più facile che vinca una persona che se ne frega. Di una persona che comunque sta in silenzio e aspetta. Di una persona che dà fiducia. Di una persona che dà tempo, dà spazio dà un bel po' di cose, insomma. Questo varia appunto in tutti gli ambiti. Io mi ricordo una volta il padre di un mio amico che aveva una fabbrica che è abbastanza grossa che aveva detto io sono troppo buono. Io non ce la faccio a far cose però a volte serve di essere autoritari. Quindi aveva assunto uno che facesse il cattivo al posto suo. ecco, nel caso mio vorrei diventare nel caso mio che non riesco ad assumere nessuno che faccia il cattivo al posto mio vorrei essere io quel cattivo. Il resto è un desiderio come tanti altri ma almeno, ripeto è un desiderio sincero perché alla fine uno deve anche vedere cioè inutile una persona buona ci pensa 24 ore al giorno una persona cattiva ci pensa un secondo per dirti una scusa. Questa è la realtà della vita. E sicuramente conoscerete anche voi delle persone cattive persone di marga o sbaglio. e buonanotte.